Sì, Monza-Padova è una partita molto importante per noi, per il nostro percorso, per la nostra stagione e vogliamo assolutamente cercare di centrare l'obiettivo della finale, per cui naturalmente l'aspettiamo con tanta voglia di giocare. Ogni gara ha la sua storia, quella che abbiamo giocato nel giorno iniziale, una partita è già passata, ora dobbiamo essere molto focalizzati su questa gara, dove sicuramente loro verranno per giocarsela al massimo e noi dovremmo essere bravi a tenere il controllo della gara, a essere combattivi, a essere reattivi nel momento in cui dovessimo affrontare le difficoltà. Sì, il turno di riposo ci ha aiutato per recuperare acciacchi, per lavorare su aspetto fisico, tecnico, analitico. Abbiamo ancora tante cose che possiamo migliorare, nonostante siamo in coda alla stagione, però diciamo che il tempo non è stato sprecato e speriamo che questa cosa possa servire per poter giocare la nostra miglior parlavolo.